Da una parte bellissimo colpo d'occhio sugli spalti del pala di sfida Mario Borgia, dall'altra il dominio del Futsal Barletta sul campo nel derby contro il Barletta Calcio 5. La terza, stracittadina della storia, finisce come le altre due, cioè con la vittoria dei Biancorossi di Leo Ferazzano, che esibiscono una prestazione di notevole spessore caratteriale e si rivelano più cinici in zona gol rispetto al quintetto allenato da Antonio Di Benedetto, che gioca una discreta parte centrale della prima frazione, ma poi non riesce a cambiare passo nel corso della ripresa. Il Futsal, alla prima vittoria casalinga in questo campionato, va in gol dopo pochi secondi con Falco, poi raddoppia con un sontuoso assolo di Chiariello. Sono loro due i trascinatori della formazione di Ferrazzano. Il Barletta accorce le distanze con il solito Calamita, ma prima dell'intervallo Falco fa centro altre due volte e porta i suoi sul più tre. Non cambia lo spartito del match nella ripresa. Dopo il botta e risposta tra Chiariello e Calamita, Falco chiude in anticipo i conti con il quarto centro personale. Nel finale poi Borracino fissa il punteggio sul definitivo 7-2. Il risultato ci paga di tutti gli sforzi che avevamo fatto. L'avevamo preparata esattamente come poi l'abbiamo giocata. Faccio i complimenti veramente a tutto il gruppo, al mister, perché in settimana si respirava quest'aria, c'era questa convinzione. Sapevamo di attraversare un ottobre e un inizio di novembre anche. L'avevamo messo in preventivo perché alcuni cambiamenti avevano bisogno del loro tempo per essere assimilati dalla squadra. È inspiegabile come la disputa contro i cugini ogni volta venga disputata dai miei giocatori in maniera irriconoscibile. Però forse sono questioni che i calciatori soffrono e quindi poi sul campo lo dimostrano. Però ritorno a dire che è una partita a se stessa e che non fa quindi testa sul prossimo del campionato. Il futsal sale così a quota 6 punti in classifica e opera il sorpasso ai danni dei cugini del Barletta. Fermi a quota 4 punti. Sempre nel girone di Serie B non riesce l'assalto del futsalbicelli e la terza vittoria di fila. Gli uomini di Francesco Ventura portano comunque a casa un punto dalla trasferta di Venafro. Nel 4-4 finale contro i Molisani c'è spazio per la doppietta di Pedone e per le reti di Ferrera ed Angelo Cassanelli. Quest'ultimo autore del gol del definitivo pareggio futsalbicelli a 8 punti in classifica. Ricordo che non abbiamo portato i 3 punti a casa. Il problema è che questa volta abbiamo cominciato a vincere però come sempre lasciamo un po' vivi gli avversari e non riusciamo a chiudere la partita. Più questo amaro che abbiamo è un peccato. Nel campionato di A2 infine la Salenis giganteggia anche in Sicilia, batte 9 a 4 il Catania e conquista la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta al palaspor di Andria contro la Cireale a cui si riferiscono queste immagini. Il poker di Nardacchione, la doppietta di D'Ambrosio e le reti di Perri e Caetano regalano al quintetto di Domenico Lodispoto la quinta posizione nel girone B.